L'isola dei famosi accoglie due volti noti dal Grande Fratello, ma il pubblico è diviso, entusiasmo o saturazione? Sono ovunque. In un trionfo di sorprese e rivelazioni, Vladimir Luxury ha orchestrato una mossa audace, selezionando due talenti emergenti direttamente dalla scuderia del Grande Fratello per catapultarli nel magico regno dell'isola dei famosi. È un colpo di scena degno di applausi, destinato a innescare un'ondata di interesse senza precedenti e a spingere gli ascolti verso VIT mai viste prima. Questi due protagonisti del piccolo schermo, dopo aver catturato l'immaginazione del pubblico nel Grande Fratello, stanno per affrontare una nuova epica sfida, pronti a regalare gioia e adrenalina ai loro fan fedeli. Sebbene tutto sia ancora avvolto nel mistero, l'idea di vederli brillare sullo schermo per i prossimi mesi è un'esperienza che suscita brividi lungo la schiena. Ci sono infinite possibilità su cosa potrebbero fare ora l'intera comunità dei fan a intrepidante attesa delle loro parole. Le due star del Grande Fratello sbarcano sull'isola dei famosi. La notizia di questo avvincente passaggio di testimone, dalla casa del Grande Fratello alle spiagge paradisiache dell'isola dei famosi, è stata divulgata con fervore dal rinomato portale Angolo delle Notizie, innescando una tempesta di discussioni e speculazioni online. Si sussurra che i due possano sfruttare il loro successo nel reality di Signorini come trampolino di lancio per un'avventura senza precedenti sulle coste dell'Honduras. Secondo le ultime voci che circolano sui social, sembra che Mirko e Perla siano i fortunati prescelti destinati a varcare la soglia dell'isola dei famosi. Ma quale sarà il loro destino una volta lì? Saranno degli ospiti d'onore, pronti a deliziare il pubblico con la loro presenza, o si impegneranno nella dura sfida di sopravvivenza come veri naufraghi? Per loro, questo sarà il terzo capitolo consecutivo in questa avventura senza confini nel mondo dei reality, dopo le emozioni del Grande Fratello e le tentazioni di Temptation Island. Ma nonostante la fervente speculazione e l'eccitazione palpabile, dobbiamo ancora attendere con pazienza le conferme ufficiali. Solo il tempo ci dirà se questa straordinaria notizia si rivelerà una realtà affascinante o un semplice miraggio nel deserto dell'attesa. E così, nell'attesa di ulteriori sviluppi, continueremo a sognare e a immaginare il futuro radioso che attende questo due coraggiosi protagonisti del nostro piccolo schermo.